Ultima trasferta dell'anno domani per il Teramo che sarà impegnato in casa della Reggiana al Mapei Stadium. I biancorossi cercano una vittoria in trasferta che finora in stagione non è mai ancora arrivata e proveranno a farlo con alcune novità di formazione perché probabilmente dopo il gol vittoria contro il Fano Asta confermerà la scelta degli ultimi minuti di gara di sabato scorso. Varerà un duo mignon in avanti con Bacio Terracino e Tulli e con l'inserimento a centrocampo probabile di Graziano visto anche il forfè di Amadio. Con due attaccanti, anche due centrocampisti, soprattutto i due attaccanti, poi vedrete domani ma se qualcuno ha già capito quali saranno le mie intenzioni, di avere dei giocatori rapidi, dei giocatori veloci per ripartire molto perché loro è una squadra che attacca con molti giocatori, dobbiamo fare molta densità e ripartire immediatamente. Ogni partita ha la sua storia e quindi in certe situazioni bisogno di uno che davanti ti difende e parla per far salire la squadra e domani abbiamo bisogno di ripartire velocemente e lui è uno di quelli, anche se è esterno, che ci può far ripartire come può essere De Grazi in mezzo al campo o i due attaccanti dove li sceglierò domani in funzione proprio per questo motivo. Credo che come tutte le cose, soprattutto contro questa squadra che ti dà spazio, te lo dà e quindi abbiamo bisogno di campo aperto, gente che corre, con quello soprattutto sarà la scelta, è stata la mia scelta in settimana. Domani sarà anche l'ultima gara del girone di andata dopo la prima giornata di ritorno che si giocherà venerdì e prossimo proprio qui allo stadio Bonolis contro il Mestre e Asta esprime anche un desiderio di fine 2017. Mi piacerebbe pensare già da un po' la positività che io devo trasmettere anche alla squadra nell'usare un po' di più, dobbiamo usare, lo possiamo fare, ma non perché prima eri una maniera adesso le ultime partite sei diverso, no, perché non è questo, è qualcosa di inconscio, a volte è vero il risultato ti condiziona, il pareggino va bene, piano piano, invece dobbiamo pensare. Poi ogni partita sarà una partita diversa e difficile, che anche a Reggio è una partita difficile, ma voglio di nuovo ritrovare quella squadra garibaldina, una squadra combattiera che riparte a mille all'ora, che possa mettere in difficoltà gli avversari. Il tecnico bianco-russo è tornato poi anche su alcune esternazioni, in settimana fatte da alcuni giocatori, Bacio Terracino e Altobelli, nello specifico che non hanno escluso la possibilità di partire nel caso arrivassero altre offerte che appunto garantirebbero maggiore minutaggio ai giocatori bianco-rossi, ma il tecnico è stato abbastanza lapidario quest'oggi in conferenza stampa. Chi non è contento, anche chi ha giocato, chi ha giocato molto e non è contento, non fa per noi, non può fare per nessuna squadra secondo me, quindi lui come altri noi siamo aperti a qualunque soluzioni, perché abbiamo parlato con la società, vogliamo gente che rimanga convinta perché è un progetto che è iniziato a giugno, lo sappiamo a luglio, scusate, e lo vogliamo portare avanti. Chi non è contento perché o ha giocato tanto o ha anche giocato poco, è giusto che fassi alle sue scelte, ma sono scelte sue. Noi vogliamo pensare alla squadra più che mai.